Buongior, buongior, buongior! Mi sentite bene e forte? Ben tornati sul canale! Oggi comincia la nostra giornata a creativa, la fiera creativa che fanno a Napoli tutti gli anni. La gente mi guarda sempre strana quando faccio il vlog per strada, ma fatevi un fai cazzo vostri, no? Bene, bene, allora, sto aspettando l'IA, la conoscete la mitica H.P.C.U. che sta arrivando là fuori, la sto vedendo, guardatela un po', eccola lì! E' questa qui, è questa, aspettate, è questa, è questa, sta arrivando, sta arrivando, eccola, è lei! E' lei o non è lei? E' lei o non è lei? Sono entrata di botte nel tuo vlog! Così, all'improvviso, io stavo parlando, la gente mi guardava strano! E' come sempre! Come siamo belli in versione invernale, un pochettino! Siamo carini! A parte questa cosa che mi è uscita in faccia, guarda qua! E' un frungolo che mi sono schiattato e di schiattato tutta la notte! Mi dispiace di non aver fatto vedere questa cosa della zingra che ci ha... Ciao! Ciao! Questa zingra che ci ha augurato di avere un figlio maschio fantastico! Stanotte dobbiamo farlo però, eh! Noi così abbiamo il vlog! Noi così abbiamo il vlog! Sono il filimundo, vogliono farci accoppiare! Aiuto! Ho beccato, Arianna! Andata da lì! Non ci posso credere! Non è nessuno, Arianna! Non è nessuno! Non l'ho manco riconosciuta, che figura di merda! Però sono contento! Queste cose strane all'improvviso ci piacciono! Non si vuole far vedere! Però ci sarà sul mio vlog, poi si vedrà lei! Ha ha! Eccoci qua! Siamo arrivati a Fuoricrotta, a Mostra d'Oltremare e andiamo a vedere un po' quest'anno creativa se ci riserva qualche sorpresa buona perché ultimamente c'è un po' deluso, o no? Oddio, per te no, perché per le pietre! No, per me no! Per le pietre e cose varie si trova un po' di tutto! Perché è sempre una bella occasione per vedere tutte le persone! Ma infatti solo per quello veniamo a creativa! No, io amo! Solo per vedere le persone belle, simpatiche e creative come noi! Dopo aver salutato anche Arianna, che non l'ho mai vista, mai conosciuta, siamo visti soltanto su Facebook! Scusate, sto facendo un po' di rutti, ma mi sta salendo il cornetto a marmellata! Non so perché! No, lo metterò! È una spontaneità! Ma pure troppo! Ma dove stiamo andando? Andiamo da là! Ciao Lia! Ciao! No! Siamo in fila, guardate qua! La nostra faccia è disperata! Siamo disperati, raga, ma è possibile? Desperados! E quelle se ne stanno andando avanti perché hanno la raccomandazione! Secondo voi cosa è sto cosa? Che paura! Manovatuto! Allora, la cosa è preoccupante! C'è gente che viene con i trolley a creativa, ragazzi! Ma dove cazzo andate? Non vi sto giudicando per il carnetto divino! Ma le regalano le cose! Ma secondo me le è un po' boiata a voi! Oppure regalano le caramelle! Eh, può essere! Cioè, vi voglio tanto bene, però, cioè... I trolley! I trolley, ragazzi! I trolley! Allora ci hanno fatto entrare... Dov'è la stanza robita? Ci hanno visto in faccia, e siamo riusciti ad entrare! Allora, adesso aspettiamo un po' di persone per... Per non salutarci, perché ci siamo dati un appuntamento! E niente, spero vi piaccia la fiera, ve la faccio vedere! Se vi piace qualcosa, non lo so! La creativa è una grande fiera che comunque fanno tutti gli anni, quindi... E... 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 Grazie a tutti. Mamma mia, un fiume di gente, non potete capire, tutti un addosso all'altro come al solito, però c'è tante cose carine, faccia da artigianato sitiano e fanno praticamente delle cose che vi faccio vedere. Come al solito, Creativa è abbastanza incentrata sui tessuti, sulle stoffe, sulle cose di legno e niente. E niente, cose carine, qualcosa ho comprato, poi vi farò vedere cosa ho preso. Siamo venuti anche allo stand di brillanti creazioni. Ciao Maria, saluto ai miei follower del canale. Pure io dovevo continuare. Nunzia è scappata, aspetta, ve la faccio vedere anche a Nunzia. Vergogna, si vergogna lei, come devo fare con questa ragazza? Passate sul sito di Maria, mi raccomando, e se siete a Bari, a Barletta, giusto? Sì, a Barletta. A Barletta, andatela a trovare, ok? Guarda, c'è anche Nunzia, guardate Nunzia, ciao Nunzia. Ciao! Ma chi sei? E' per il vlog del canale. Ah, era più sexy? Allora, non stanno cercando marito, non vi preoccupate. Cioè, ce lo stiamo cercando e lo abbiamo pure cacciato. L'hanno pure cacciato, attenzione. Io sono sudato, a lei serve, lui sta lì, eccolo. E io solo che mi ha l'accompagnato. Ecco, sì. No, non c'è, lei non c'ha i mariti, no? 3 o 4 ne sono. Allora, abbiamo incontrato un po' di vecchie conoscenze creative. Ve le faccio vedere, guardate qui. Maria! Ciao Maria! Ci abbiamo tutte vecchie amiche. Ogni tanto ci incontriamo. Ci vediamo sulla creativa una volta l'anno, non è giusto a contatto. È importante che cacciavirina, però. E non viene che cacciavirina. Elga, Elga, Elga salutami. Qual è il filo, Elga? E mi direi che io tu mi fai. Elga, sei bella tu. È sempre lei, si fa riconosce. Non avete idea di chi ho acchiappato. Cioè, un culo, perché non ci vediamo da tipo quanti mesi? Dal 15 dicembre. Dal mio compleanno, al po' che è il mio compleanno, ragazzi. Guardati qua chi c'è. Ma il mio pane ha emozzi. Mi sei mancato, amore? E tu non sei stato a Napoli per tanti mesi. Io ti ho dovuto sostituire. Ho fatto una bambola con la tua faccia. No, non è vero, non so se mi scuole nessuno. Sparisce. Ragazzi, è finito un amore in diretta. Ciao. Sono circa sei ore che sto in fiera. Non ce la faccio più. Non ce ne ho più. Adesso sto facendo un giro con Ilaria. E ho lasciato un attimo Lia da sola, che è andata a fare un altro giro con altre amiche nostre. E stiamo facendo una missione impossibile. Poi non ve lo posso dire, ve lo farò. Ve lo dirò dopo. Ragazzi, ce l'abbiamo fatta. Ce ne stiamo andando. Dopo tutto l'entusiasmo di stamattina, c'è ancora l'entusiasmo, non vedo l'ora di farvi vedere tutto quello che abbiamo comprato. Lia, cioè, sono piena. Lia se ne sta andando con un albero di Natale, ma non vi dirò il perché, ve lo dirò a lei. Perché dovete andare sul suo canale e scoprirlo. Quindi ve lo metto qua sopra nell'inclinato, a sinistra, nelle info. Anzi, adesso posso mettere anche una scheda. Sì. Quindi avete le vostre schede. Dobbiamo dire che YouTube ha fatto una cosa buona. Amen. Le schede di fine video. Grazie a YouTube. Senza che ci dobbiamo scemonire noi per metterle ogni volta. Grazie a YouTube. Finalmente YouTube veramente ci dà una mano anche a noi. Posso fare un'altra richiesta a Mr. YouTube? Sistema un po' le playlist. Eh. Perché sono un po' difficilotte, un po' così. Sistemale, fai qualche bottoncino e vino. Bravo, bravo, bravo. Comunque io se ne stanno andando, diciamo, un'altra volta con un albero di Natale. Che lei così se l'è trovato magicamente. Ah, poi c'è un ricordo che se questa persona guarderà questo video fino alla fine, guarderà, vedrà una cosa. E non dico il nome. Leggete soltanto quella scritta rosa e questa persona si ricorderà. Ma cosa? Socap. Questa persona se lo guarderà veramente fino alla fine, io saprò che ha visto il video. E questa cosa che è successa a Socap le farà ricordare una cosa un po' strana. Comunque, tirando le somme, abbiamo... Non abbiamo speso manco tanto questa volta, sinceramente. Io non lo so, ne ho ancora fatti i gol. Io sì, ho vedevo i soldi che sparivano dal portafoglio. Ho visto quello che è rimasto e ho detto, beh... Quindi, niente. Ci siamo divertiti come sempre. Fortunatamente, dicendo di nuovo, tirando le somme, siamo riusciti a... Niente. A passare una bella giornata bellissima. Come tutte le volte che veniamo a Criattiva. Abbiamo salutato chi dovevamo salutare. E niente. Ci ha fatto piacere anche. Sì, poi vabbè, il prossimo video vi faccio vedere quello che abbiamo comprato. Devo dire qualche altra cosa. Grazie a Lia per avermi fatto compagnia anche quest'anno. Grazie a te. E come sempre... It's a pleasure. It's a pleasure. E... A Chiappate a Ville. Ah, dimenticavo. Ringraziamo il calzino di Lia che se ne scende nello stivale da stamattina. No, questa non lo metterai mai perché se no ti ricatto, eh. Ciao Lia. È stato un piacere. No, non lo metti. Ciao Lia. Ciao Lia. A Chiappate Ville. A Chiappate Ville. Ciao. 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 Ciao.